Quando vai a giocare al San Paolo contro il Napoli, penso che ci possano essere solo cose positive. Nel senso, affrontiamo una grande squadra che sta facendo bene, però noi abbiamo grande voglia di riscatto. Siamo il Milan, dobbiamo andare là, fare una bella partita anche spensierata, cercare di rendere onore alla nostra maglia, ai nostri tifosi, cercare di fare una bella gara. Questa è la cosa che ho insistito in questi due o tre giorni. Ci siamo allenati bene, non è stata dura reagire alla partita di mercoledì, però io penso che chi andrà in campo mostrerà grande orgoglio e grande spirito. Le motivazioni quando si indossa la maglia del Milan ci devono sempre essere. Io l'unica cosa che posso garantire è che fin quando ci sarò io, chi andrà in campo darà sempre il meglio di sé, perché in questa stagione è mancato solo a Udine, mi dispiace, e quello deve essere un episodio. Poi se le partite si possono perdere, come mercoledì, dispiace, ma il Genova ha dimostrato di essere in questo momento migliore di noi e ha vinto. Da ora in avanti succederà questo, noi cercheremo di dare tutto noi stessi. Speriamo di fare una bella partita e abbiamo visto l'andata che facendo la gara perfetta ce la possiamo giocare anche con il Napoli, per cui io sono fiducioso che sarà una bella gara.